Bene signori, in questo video vediamo che cosa rispondere quando ti cerca. Ho sotto mano una delle domande, quindi la persona sta ricevendo risposta in questo caso from my side, quindi da parte mia, e vediamo insieme che cosa rispondere quando lui ti cerca. In questo video vorrei sottolineare l'importanza di, tra virgolette, utilizzare la chat in modo tale che ci sia un'organizzazione che possa poi in qualche modo arrivare a suggellarsi, quindi a verificarsi. Se parlate in chat, quindi se stai messaggiando con un uomo, devi assolutamente utilizzare, ripeto, per l'ennesima volta, la chat per organizzare un appuntamento, quindi dovresti seguire due linee principali. La linea principale è quella di usare, per prima cosa, i messaggi per organizzare qualcosa, organizzare un'uscita o comunque qualcosa con la persona, e non per semplicemente rispondere con dei grazie. Nell'esempio che mi è stato posto, per esempio, la persona risponde con un grazie. Ok? Ora, perché non vuoi rispondere con grazie quando lui ti cerca? Perché rispondere con un grazie implica o prevede semplicemente che non ci sia un margine di risposta dall'altro lato. Quindi, ragazzo che tu stai frequentando, il tizio che ti scrive, il tizio che hai appena visto, chiunque, quando ti fa una domanda, puoi prendere la palla al balzo. Quindi puoi prendere la palla al balzo, nel senso che puoi essere tu a fargli un'altra domanda. Ok? Per esempio, uno dei messaggi che consiglio spesso, quindi in questo caso lo potresti fare, quindi tu che stai ricevendo risposta da parte mia, puoi farlo, quindi puoi assolutamente rispondere con una domanda. Non chiederei come stai, ma userei delle domande leggermente più diverse che è stato riscontrato a livello testuale, quindi mio, personale, di vita privata, hanno generato dei risultati. Queste domande sono, per esempio, come sta andando la giornata di, e poi mettere il suo nome dopo il di. Quindi, se si chiama Francesco, come sta andando la giornata di Francesco. Queste cose sono molto semplici e basiliari. Il motivo per cui fare una domanda che, tra virgolette, viene percepita come terza persona, dove si parla dell'altro in terza persona, è una delle basi che porta le persone che conosci a, tra virgolette, sentirsi stimate e quindi valutate. E questo aumenta l'imprinting positivo. Cioè, dare del lei a qualcuno, o comunque far vedere che ne stai parlando in terza persona, in realtà aumenta la percezione di valore. Ok? Questo è provato scientificamente. Quindi, una volta che fai questo, cosa devi fare? Non devi concentrarti sul fatto che lui ti risponde o non ti risponde. Ma devi concentrarti sulla possibilità o la chance che dovrebbe verificarsi di parlare con lui seguendo una serie di domande, quindi una domanda a tu, una domanda a lui. In questo caso tu gli hai fatto una domanda, lui ti risponderà, tu puoi continuare con altre domande usando un altro principio che è il chi, dove, come, cosa, quando, perché. Questo principio è molto stupido perché ti consente di fargli delle domande utilizzando quelli che ti ho appena detto, che non so se sono avverbi, non mi ricordo, e quindi dirgli, fargli domande riguardo a quello. Per esempio, se lui ti dice la sua giornata sta andando bene, la domanda sarà perché, cosa ti turba. Se ti ho detto che la giornata sta andando alla grande, gli dirai come mai, cosa hai fatto di bello. Ok, sono modi stupidi che ti stanno sotto il naso ma chiaramente uno non ci pensa. Questo ti consentirà, sul lunghissimo termine, di fare che cosa? Di avviare un processo di domande sequenziali, quindi uno dopo l'altro, fai queste domande alla persona, una volta che fai queste domande alla persona, cosa succede? Succede che si arriva a una chat di 10 messaggi circa dove per esempio 5 sono tuoi e 5 sono tuoi o anche di 20, dove 20 sono tuoi e 20 sono tuoi rispettando sempre il rapporto 1 a 1, mi raccomando e se l'altro non ti chiede di uscire l'unica cosa che devi fare è dirgli stavo pensando che potrei essere libero nei prossimi giorni per un caffè, tu come sei messo? punto, con un punto di domanda ti risponderà sì, no, forse se ti risponde forse oppure no, quindi ottimo allora fammi sapere tu vuoi come sei messo nei prossimi giorni, adesso devo scappare stop e si ricomincia il ciclo quando ti ricontatta non fate il ciclo più di due volte quindi la volta dopo se ti ricontatta li fai da capo ma non fare più di due volte ok? detto questo una volta che si arriva a questo livello quindi si fa esattamente quello che ti ho appena detto succede che ti tra virgolette ritroverai o una persona che accetta l'uscita e quindi ti corteggia e è stata insieme oppure no questo lo devi fare sia con persone che per esempio tornano come per esempio in questo caso diciamo è tornato bla 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 ok bene o con persone che non tornano quindi la cosa che ti ho appena suggerito è una cosa che puoi assolutamente utilizzare per diverse persone e più persone che ti scrivono e ti danno dei messaggi è un processo molto semplice che ti consiglio di studiare ripetendo di questo video quindi se stai vedendo questo video puoi studiarti questo processo semplicemente di comportamenti atteggiamenti dei messaggi fallo perché è quello che ti consentirà di chiedere in modo semi esplicito a una persona di vedersi e di stanare l'interesse quando ti risponde alla tua proposta e ti dice si ok vediamoci la persona sta esprimendo l'interesse genuino se questo non si verifica la persona non è interessata ok